Il Polirone si apre alla solidarietà sabato all'interno del Chiostro di San Benedetto. Sarà organizzata un'iniziativa per la realizzazione di un giardino sensoriale nella casa di riposo del paese. Il Polirone apre le sue porte alla solidarietà. Sabato 8 settembre, a partire dalle 20.30, si terrà una cena evento organizzata dalla Fondazione Comunità Mantovana Onlus, da Sanita, da Servizi Sociali e dal Comune di San Benedetto Po. Lo scopo è raccogliere fondi per la realizzazione di un giardino sensoriale all'interno della casa di riposo del paese. È un'iniziativa alla quale hanno aderito gran parte delle associazioni san benedettine e questo dimostra che quando ci sono dei progetti che vanno a favore del bisogno della comunità le associazioni rispondono e i concittadini rispondono. Questo mi fa molto piacere. Giardino sensoriale che si vuole attuare di concerto con Sanitat che ha la gestione della casa di riposo naturalmente perché è dimostrato scientificamente che la stimolazione dei sensi che possono essere vista, gusto, olfatto tramite i fiori, le piante, tramite percorsi ad hoc che verranno illustrati come progettualità proprio all'otto durante la cena migliorano la qualità della vita degli ospiti e soprattutto alleviano di molto e questo ha dimostrato scientificamente i disagi.